Noi abbiamo ad anni un bilancio virtuoso, siamo fra le regioni che in maniera molto rigorosa sono attenti ai propri conti, stanno nei parametri previsti dagli obiettivi che vengono dati dal Governo nazionale e questo ci ha permesso quest'anno di poter avere un'attività straordinaria programmando 113 milioni di investimenti aggiuntivi, investimenti aggiuntivi che qualificano ulteriormente il bilancio, un bilancio già importante perché non solo non aumenta la pressione fiscale, addirittura la riduce togliendo la cise sui carburanti, credo fra le pochissime regioni che l'hanno fatto ma con questa bassa pressione fiscale ci possiamo permettere comunque 113 milioni di investimenti che andranno nelle strade, nella difesa del suolo, del territorio, gli investimenti sugli immobili per la loro riqualificazione, cioè dare attraverso una forte campagna di investimento certamente sviluppo a occasione di lavoro per le imprese che si restituiscono nel territorio in termini di qualità e sicurezza. Dalle strade ad esempio che sono diventate regionali da pochi anni poter avere per 3 anni 10 milioni di euro all'anno di investimento significa tanto, poter dare soprattutto la parte più interna della regione strade degne di questo nome, strade più sicure. Giovedì finalmente ci sarà l'incontro fra il governo e le regioni, noi porteremo a quel tavolo il piano per lo sviluppo, quello approvato dal Consiglio regionale che abbiamo voluto allegare al bilancio per dare forze a valore a questo atto, sono accordi che le altre regioni che hanno avuto Sisma, l'Abruzzo, l'Emilia Romagna hanno fatto, noi abbiamo fatto un lavoro con grande anticipo e consapevoli più che altrove del fatto che la ricostruzione non era solo un fatto materiale ma legato anche a quelle condizioni economiche necessarie di sviluppo perché altrimenti difficilmente la popolazione torna nei luoghi d'origine. Un piano a 2 miliardi di euro che riguarda infrastrutture, riguarda servizi, facilitazione fiscale, un po' quello che fa la regione in tutto il suo territorio, potenziato enormemente per alcune aree per diventare fortemente attrattive sotto questo profilo. Tutte le condizioni per poter garantire lo sviluppo, speriamo di trovare ascolto dal governo, poter avere via libera su questo programma diventerebbe per tutto il terremoto uno sguardo diverso verso il futuro.